Ciao bimbi, voi com'è stato? Io sono Bello, oggi continuiamo il cavolo nero con le patate, si chiama olio, cavolo nero, patate, asciughe, aglio, sal, iniziamo! Prima di tutto puliamo il cavolo nero, andiamo a prendere il cavolo nero e i fogli. Non sono fortissimo, non sono fortissimo, per potenza, sceglie un bel forte, sono cute. Allora amici, qui ci sono le foglie di canonella e qui ci sono le patate a pesce di. Adesso abbiamo messo l'acqua, una pezzo a bollire, metto l'acqua bolle, ti buttiamo le patate e le dobbiamo cuocere due minuti. Dopo rimangiamo il cavolo nero e le cuocere, anche 5 minuti. Ok, tutto chiaro? Dovrete fare sempre quello che vi dite amici, che io sono già. Intanto mangiare l'aglio della pelle e poi l'olio. E' l'olio. E' l'olio. E' l'olio lo fa ricadare un pochino. E' l'olio lo faccio addosso, aggiatare le aziughe. E le mettete a pochere. Molto buone. si metto con la mano sono fezzoli adesso li metto su il fuoco ma solo? no li vado a mettere su il fuoco ecco il mio caronello con il patate e la tasca già mamma ha detto l'assaggio mi metto fuoco lo prendo tutto ce ne ho finati però non ce ne ho finati ma non ce ne ho finati ma non ce ne ho finati ma non ce ne sono buoni e mi sono buoni e mi sono buoni e mi sono buoni questa è un bimbo andate come le manzareti la manzareta ma non ce ne ho finito la manzareta E' un mondo fatta E' un po' peoggi E' un po' peoggi E' un po' peoggi Oh, 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 oh